Come è andata la stagione balneare? All'ultimo momento perché non si sapeva se c'è il riposto, però in compenso quest'anno abbiamo lavorato poi in agosto senza problemi, un ritorno alla normalità da tutti i punti di vista. Avete avuto molti turisti? Italiani soprattutto, poi sono aumentati un pochino gli stranieri ma da noi diciamo dipende molto da come lavora l'hotel, quindi quello che arriva in hotel arriva da noi. Invece gli ombrelloni quando verranno tolti dalla spiaggia? Noi per ordinanza possiamo stare aperti dal 1 aprile al 30 settembre, quindi noi saremo aperti fino alla fine, gli ombrelloni comincieremo a lavarli piano piano da metà settembre.